3 2 1 go ciao ragazzi sono sempre rosario secose vi ricordate del velociptor clim da 500 watt che faceva solamente 22 km orari sbloccato bene in realtà non era sbloccato bisognava sbloccarlo anche dalla dashboard allora innanzitutto devo fare un grazie di cuore a gian lui che mi ha permesso di sbloccarlo tramite le sue indicazioni e tramite dalla dashboard e adesso va come deve andare ok vi ricordo sempre che comunque sbloccati sono illegali quindi la velocità massima è 25 km orari quando però sbloccate va a vostro rischio ovviamente e comunque è sempre meglio andare a fare o fuoristrada o comunque nelle aree private ok adesso vi faccio vedere il tutto e sono molto contento iscrivetevi al canale tanto è gratuito e non vi costa niente ovviamente come dico sempre io io non è che sono il re dei monopattini quindi pure io non posso sapere qualche cosa non è che io so tutto dei monopattini anche se li riparo e comunque me ne intendo ok quindi io sono molto umile quindi lo dico non c'è un problema meno male ok ora vi faccio vedere bella lì allora questo è il monopattino velociptor clip della mg ok anzi e poi volevo fare anche un'altra cosa visto che io mi sono molto inca atto con la mg io mi ha dato una mail malefica ahimè lo so mi devo scusare però ragazzi sapete che uno quando spende i soldi e poi alla fine si trova una cosa che non è come quella che descrivono adesso sta passando anche l'elicottero ecco appunto quindi non si sente niente e quindi va bene questo ragazzo appunto mi ha aiutato a sbloccarle quindi è un buon monopattino proprio adesso doveva passare questo elicottero bene e niente se lo volete acquistare appunto acquistatelo perché è veramente bello solido è veramente robusto mannaggia ma io dico ma proprio adesso va bene dai guardiamo va bene viene l'uno a prendere sta atterrando proprio dietro ma io dico proprio adesso oh mamma ragazzi oh mamma anche l'elicottero mi sa che mi sono venuti a prendere mamma mia ma in realtà non so cosa sta succedendo comunque vabbè proprio qui oh mamma mia ma in realtà è bello 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 monopattino climbo e anche elicottero in diretta comunque è sbloccato è sbloccato e niente adesso non so cosa sta succedendo spero niente di grave però vabbè qua siamo in diretta e non lo so adesso guardiamo bene cosa sta accadendo e va bene dai bella lì grazie a tutti grazie a tutti